Ciao ragazzi, nuovo video di oggi. Oggi faremo un allenamento utilizzando dei piccoli sovraccarichi, cioè le bottiglie d'acqua, magari da un litro. I grandi ne utilizzano due, i piccoli solo una per fare tutti e tre gli esercizi che vi farò vedere. I grandi faranno tre esercizi da dieci ripetizioni ciascuno, i piccoli faranno sempre tre esercizi da cinque ripetizioni ciascuno, il tutto per sei giri. Primo esercizio per i più grandi, due bottiglie in mano, facciamo un affondo laterale, carico dietro e torno su, stessa cosa a sinistra, quindi alternate. Variante per i piccoli, in una bottiglia. Mi raccomando il ginocchio, non voglio vedere questo e neanche questo, il ginocchio sta sempre bene in linea sul piede, caricate dietro e andate dall'altra parte. Secondo esercizio, distraiate i grandi con due bottiglie, o chi ha dei pesettini parosegno per i grandi con un pesettino, andate indietro e su. La spalla rimane ferma, la sfinta è solo del gomito. ultimo esercizio, ah i piccoli ragazzi questo, lo fate così, una bottiglia, spalla ferma, si piega solo il gomito. Ultimo esercizio, in piedi, su verso l'alto, bloccate la pancia, mai spanciare, ma bloccate sempre questo, dovete essere in plank e poi spingere su con le braccia. Quindi i grandi 10 ripetizioni per esercizio, i piccoli 5, totali 6 giri. Ciao!